Ciao a tutti ragazzi, sono Mark e oggi giocheremo ad Asphalt 8 Ok, la mia macchina è l'Audi R8 e-tron, non so neanche che pronunciarla, bene Questa è l'Audi RS3 Sportback, sì sì Ok, bellino comunque, uh uh, si trovi sul volo, non so neanche che macchina sia, ma Quanto è bella, Nevada, che bello, e mi piace il Nevada, guarda che bello, e sai questo gioco devi soltanto frenare, forse, e ah, e mettere il turbo, che penso sia la barra da sopra, credo, non è sicuro, non so dove sto andando, perché quello andava fuori strada, non capisco più niente, perché, e cioè non ha senso questa cosa, ma mettiamo un po' di nostro, scusa, oddio, scusa, mi spiace, non si vuole fare male, oddio, questi pirati dei volanti, non sanno voglio guidare, ma chi è primo, io sono terzo, se vuoi, chi è primo allora, ah ma sai che hanno fatto un'altra strada, fidene a zoccola, le vostre mamme sono tutte molto bravi a fare le cose che non vi posso raccontare, perché voi vi mettere a piangere, attenzione, è proprio lui, corri corri, vai, e dai, che è così, ma do, sto proprio distruggendo i scarichi, ma vanno a foco, mamma mia, sei secondo, ma vivo, no, 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 uh, momenti di panico, non so neanche cosa sto facendo, non so veramente dove sto andando a guidare, ma vabbè, e poi l'altro ci sarebbe anche la mappa accanto, ma non so neanche la, la pavura mentale nel guardarla, io vado di là, che cosa, ma che era, un pallo di cemento armato, forse, ho fatto un figlio, no, ma sto primo, no, sto secondo, non per molto, ma è così, no, 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 cosa, come si fa entrare proprio nel gioco questo gioco, un gioco di parole, ah, ah, insomma, no, piano, 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 ah, sono primo, bene, cantinei molto difficili da fare, comunque, ma questa strada giusto, no, oddio, forse no, devo andare qua, ok, mamma mia, ma l'altro, ma chi è che paga poi le gomme, scusate, finish, ok, perfetto, primo, oddio, perfetto, poteva andare meglio, però, mio tempo, 226,949, ricordiamoci due minuti, 26 secondi e 949, adesso ci riproviamo, viola, no, basta, voglio l'auto viola, questa, e poi così non potremmo non dire che la gente non si gira per guardarci, cioè, siamo gli unici ad avere un'auto viola, ma veramente, ma, scusate, ma lo stile, ma sapete almeno cosa sia, cioè, non avete mai visto una persona seria che va a girare una macchina viola, fai così, accelera, mi staccola nel naso, mentre loro si danno le tosse tra di loro, mi infilo all'interno, proprio lui si infilo all'interno, mamma mia, ma così mi fa riprende, scusa, ho messo un attimo in pausa, ma continuiamo la nostra gara, dai, adesso, viviamo per bene, come sappiamo fare a noi, ok, mamma mia, vi sto umiliando, cioè, ora col tornante che c'è ora, mamma mia, ti vuoi levare, mi scusi, ma, doveva essere qualcosa di strafigo e invece è stata una merda sfida, che cazzo ti lampeggi, ti ho visto, coglione, oh, oddio, ma dove, pensavo che il semele è morto, e andiamo a piccio, e andiamo a piccio, e andiamo a piccio, e andiamo a piccio, primo, ho solo e non sono un pilota, non sono, vero, non aspettavo, non sono, mamma mia, muori, così impari, a provare a starmi davanti, prendiamo questo di nostra e giriamo, ma le curve come le ho fatte prima ce le è mai più, veramente, voglio prenderlo, eh, mamma mia, però non sa, qua invece no, ciao amico, ciao, ciao, scusate, non so capire niente, va bene, siamo primi, ok, tutto a posto, facciamo il salto bilenco al massimo, e andiamo avanti, e poi forse mi convenia a fare il salto, perché a me mi dava il nostro, eh, la pelle, mamma mia, vai così, vai così, e infatti è più veloce, mamma mia, oh, dove vuole andare, ma se prendo gli oggetti, si rallenta la macchina, ho qualche volta l'operabilimento, boh, devo stare sempre a sinistra, perché almeno faccio più veloce, ma comunque, regà, oggi non è che abbiamo fatto tanti errori, ma a parte questo, cioè andare sotto i due minuti, penso che sia veramente difficilissimo, questo è assurdo, io, pensavo di essere morto, invece era così, quanto ho fatto? 2,23, oddio, prima fa 2,26, questo è stato Asphalt 8, o meglio è Asphalt 8, cioè non è che è stato, non so più come si parla, ma comunque sia, spero che il video vi sia piaciuto, commentate, condividete, mettete mi piace, mi raccomando commentate, perché almeno, cioè io preferisco sempre che commentiate, perché almeno so veramente qual è la vostra opinione, perché un mi piace magari può sembrare che qualcuno lo metta tipo per pena, si per pena, vabbè, comunque ragazzi, il mio avviso è qui, noi ci vediamo col prossimo video, beh ragazzi, oh mio dio, dai, quasi, 91 signori ce l'ho fatta, andiamo avanti.